Benvenuti, me e me e molto altro, sono il main giallo e nero e oggi parliamo finalmente della serie tv prodotta da Amazon e annunciata da Amazon God of War sul piccolo schermo, signori e signore Non voglio entusiasmarmi troppo, non voglio neanche uccidere questa serie prima che venga prodotta Diciamo, restiamo un pochino in equilibrio e parliamone tranquillamente Allora, cosa sarà questa... cosa farà Amazon Prime Video dopo che si è preso gli anelli del potere Warhammer con Henry Cavill, produttore e attore in questa serie che verrà, questo progetto che verrà fuori con Warhammer E ora God of War Un videogioco strabiliante, un videogioco fantastico che tutti noi videogiocatori sappiamo di cosa stiamo parlando E di che cosa è questo videogioco per noi Una storia veramente coinvolgente che analizza il rapporto tra padre e figlio in un ambiente, in una storia praticamente molto ostile e molto cruda e bruta Oltre ad avere molte dinamiche veramente filosofiche di pensiero, un viaggio, una storia coinvolgente che veramente rapisce veramente ogni anima del essere umano E questo lo hanno fatto secondo me questa serie tv, questo progetto per avvicinare un pubblico che non videogioco e non ha mai videogiocato questo titolo Cosa che ritengo impossibile Detto questo, la storia sarà incentrata nel 2018, quello che vedete alle mie spalle E praticamente porterà la storia, come sappiamo benissimo dal videogioco, dalla morte di Freya Di Faye scusatemi, mannaggia, di Faye che è la moglie di Kratos e poi dopo lui deve portarla comunque in cima alla montagna più alta per rendergli onore E così parte con il figlio Atreyu in questo viaggio veramente spettacolare A detta degli sviluppatori sarà una stagione, scusatemi, ci saranno molte più stagioni Con la prima stagione incentrata solo su questa storia e saranno veramente secondo me tanti tanti episodi Non potranno mai essere solo dieci episodi, secondo me andremo sulla ventina Almeno un minimo quello sarà Poi nella seconda stagione sarebbe previsto Ragnarok Quindi diciamo che di carne al fuoco ce n'è veramente tanta Amazon Prime Video ha ingaggiato gli sceneggiatori non di primo pelo ma anzi Mark Fergus e Ozpie Ossia gli sceneggiatori di Iron Man, che noi tutti conosciamo The Expanse, una buonissima serie sempre presente su Amazon Prime Video E Cowboy Italian, che c'era a livello di sceneggiatura cose molto importanti Poi il film è stato sviluppato un pochettino così Però comunque gli attori che c'erano Harrison Ford, Daniel Craig Insomma diciamo che avevano accettato non così a caso Quindi la sceneggiatura era veramente fatta bene Ricordiamo che comunque lo showrunner sarà Ralph Jaskins Che si è occupato della ruota del tempo e di Uncharted Film uscito con Tom Holland Per il produttore esecutivo e questo è l'unico punto che un po' mi rincuora È Cory Barlog, ossia il direttore creativo di God of War E' quello che praticamente ha inventato God of War Sì dal primo capitolo E poi è diventato direttore appunto di God of War Per il primo e secondo capitolo Del videogioco di God of War Quindi lì sono veramente tranquillo Pensate anche che già si sono candidati vari attori Tra cui per Atreyu, Sunny Suljic Che praticamente se vedete l'attore ora ve lo metterò poi È molto somigliante a Atreyu Però i film che ha fatto insomma Il mistero della casa del tempo Con Jack Black Insomma non è proprio un film che possa lanciare un attore In questo ruolo di Atreyu Che comunque è molto riflessivo Una storia molto profonda anche all'interno di se stesso Quindi non so quanto Sunny Suljic Possa effettivamente affrontare Però non si sa perché l'attore comunque è molto promettente Quindi mettiamo le mani avanti Il secondo ruolo è quello per Freya Danielle Bisutti Ossia l'attrice che ha interpretato Che ha fatto parte della maledizione di Chaki E anche lì diciamo la somiglianza è veramente molto marcata Ma questo non significa nulla perché comunque un attore o un'attrice Deve deve saper fare il personaggio E qui non possono sbagliare Non possono veramente sbagliare Per il... No volevo dire un'altra cosa Ah nel web Già hanno fatto una top 5 Di tutti gli attori che vorrebbero nella serie Ovviamente Amazon Prime Studios Prenderà candidature veramente forti Ma in questa top 5 molto curiosa E secondo me molto ricercata e molto azzeccata Possiamo vedere Dave Bautista Al quinto posto Sappiamo tutti ha interpretato Drax Nei Guardiani della Galassia E ce lo vedo anche bene Poi vediamo anche Tom Hardy Tom Hardy un attore speciale Un attore veramente veramente capace E nel ruolo di Kratos darebbe quella rudezza Che secondo me serve a questa serie tv Proprio il personaggio Sempre i personaggi che lui ha interpretato Sono comunque un pochettino controcorrente diciamo Così come Mad Max Fury Road E anche Venom Poi abbiamo al terzo posto Il buon Jason Mamoa Che ormai sta praticamente dappertutto Sia dei film quelli un po' più tossi Come ha interpretato Cal Drogo nel Trono di Spade E poi Aquaman E soprattutto ha fatto quel film Che non mi ricordo come si chiama Però diciamo che lui fa la fatina Diciamo non proprio la fatina Diciamo è un film per famiglie Però non mi ricordo il titolo E poi abbiamo a sorpresa Ma non tanta sorpresa Perché si è candidato anche lui E molti utenti sono d'accordo su questo fatto Christopher Judge Ossia la voce di Kratos Che sarebbe una scelta perfetta Per molti fan E anche per lui stesso Che vorrebbe farne parte Poi abbiamo al primo posto Triple Age E lì diciamo A livello di scenico E a livello di Di possanza E tutto quanto può rappresentare Kratos E c'è tutto Sono un po' incline al dire no Per quanto riguarda Il mestiere attoriale Lo vediamo comunque sia In Blade 2 Che non era In Blade 3 O era Blade 2 O Blade 3 Credo era Uno dei due Che comunque non era un grandissimo Non è mai stato un grandissimo attore Però è stato un wrestler Veramente leggendario Cosa penso io di tutta questa serie? Allora Io penso che God of War Meriti veramente Di essere trasportato In una serie tv Per forza Perché al cinema Sarebbe stato troppo difficile Anche se Abbiamo degli esempi Come comunque Il Signore degli Anelli Che è un film imbattibile Per quanto riguarda Il fantasy Perché qui parliamo anche di fantasy Parlando anche della mitologia Norrena Che ora va molto di moda Molto in voga È una grandissima Mitologia Da affrontare Sul piccolo Grande schermo Però diciamo Che forse Sicuramente La sua Locazione È proprio Una serie tv Per approfondire Molto di più I personaggi Ma quel che penso Che non devono fare La sceneggiatura Agli Anelli del Potere Diciamo Che a me è piaciuto Tantissimo Però posso anche Condividere La frustrazione Di molti Nel vedere Un pochettino Diciamo Un succo di Diluito con l'acqua Per farvi capire Un po' La mia idea Perché God of War Svilupparlo In una sceneggiatura In una storia Intensa Anche a livello Di riprese Deve essere Praticamente Sin dall'inizio Sin dal primo Secondo Qualcosa Veramente Di Poesia Di profondità Viscerale Nell'essere umano Praticamente E quindi deve essere Caricato Già a pallettoni Già dal primo Secondo Secondo me E mai diluire Nel senso Non fatigli fare Le storie d'amore Il politicamente corretto Perché qui Ci dovete mettere Per forza Devono metterci Per forza Il crudo Il crudo Che noi non vogliamo Mai guardare Non vedere Però quello Dobbiamo mettere E soprattutto Per il rapporto Padre figlio Che è una storia Veramente Coinvolgente E anche In un certo senso Un certo punto Della storia Del videogioco Diventa anche Spirituale Se vogliamo dirla così Con tutto Quello che ne deriva Le dinamiche E le vicende Che si svilupperanno Nel videogioco E spero Che affronteranno In pieno Nella serie tv Quel che Quel che voglio dire Che loro Non devono Aggiungere cose Secondo me Devono attenersi Alla sceneggiatura Originale E magari Se vogliono Proprio aggiungere Qualcosa Devono aggiungere Qualcosa Di veramente Migliore Ma sempre Dando retta A Cory Balrog E comunque A Sony Perché L'unica Che può dire La sua Su questa serie È Sony Pictures La Sony PlayStation Detto questo Spero che vi sia piaciuto Questo video In tal caso Mettete mi piace Condividete Iscrivetevi E speriamo davvero Che questa serie La facciano Veramente Fatta bene Computer grafica E Discorsi come Alla Jurassic Park Non fa niente Basta che riescano A tirare fuori Un prodotto Forte Verace Crudo Duro E Speriamo bene Che sia così Se ci saranno Degli aggiornamenti Nei vari Settimane E mesi Farò un altro video A riguardo Magari Un pochino Più completo Per ora Questo Ho di notizie E quindi Vi saluto E vi aspetto Nel prossimo video Videogameplay O diretta Di me E molto altro Ciao Ciao